Buon affare Uno scambio equo Il mio carico è eccessivo Devo forgiare qualcosa? È andata bene Torna se avrai bisogno di me Non posso farlo qui Puoi tenerle Non voglio il tuo denaro Ti chiedo di ascoltarmi Lo sento Una grande calamità sta per abbattersi sulle regioni settentrionali La porta è in pericolo Non capisco È stata sigillata per un motivo E ora quelle bestie cocciute cercano di abbatterla Ascoltami e fermali Deve restare sigillata Forse una domanda migliore sarebbe Perché nessun altro mi prende sul serio? Un tempo io Ma è stato molto tempo fa Ma è stato molto tempo Le nuove reclute della milizia si addestrano notte e giorno Si meritano un piccolo incomio Ma non devono credere che mi sia ammorbidita Potresti fargli un discorso di incoraggiamento Soldi facili per te Una bella iniezione di fiducia per loro E io resterai la solita rompiscatole Così ci guadagneremmo tutti Ci penso io Ben fatto Grazie Spero che non ci si abituino 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 Grazie a tutti. 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 Non posso ancora farlo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Devo attendere. Grazie a tutti. Devo attendere. Grazie a tutti. 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 Mi serve più furia. Grazie a tutti. 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 Non posso ancora farlo. Non posso ancora farlo. Grazie a tutti. 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 Non posso ancora farlo. Non ho abbastanza furia. Non posso ancora farlo. 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 Non ho abbastanza furia. Devo attendere. Non posso ancora farlo. Non posso ancora farlo. Non ho abbastanza furia. 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 Devo attendere. 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 Siamo nati nel peccato, figli dell'oscurità! Ma possiamo cercare la luce del Padre nella fede e nella penitenza. Cammina nella luce. Dobbiamo sempre guardarci dal peccato, fratello. Sì, reverenda madre. Lascia che la luce di Inarius bruci ogni malvagità, che la tentazione non ti allontani dal suo sacro fulgore. Che la rettitudine escluda corruzione e peccato. Respingi l'oscurità affinché resti solo la luce. Respingi l'oscurità affinché resti solo la luce. È lui che viene da Nevesc. Sì, reverenda madre. L'Orat non ti ha accompagnato. Mi ha mandato avanti senza di lui. Fidarsi di quel vecchio è stato un errore. Cosa può mai esserci di più importante? Lilith. Allora, lo sai. Uno dei nostri cavalieri ha avvistato dei demoni nella Valle Burrascosa. Pare che la descrizione corrisponda all'avvistamento di Nevesc. Se raggiungessi Jelesna e ti occupassi di quello che sta succedendo, otterresti la gratitudine della Cattedrale della Luce. Avevo pensato di inviare L'Orat, ma... Non assolve mai al suo dovere. Con o senza L'Orat. Sarà fatto il volere di Inarius. Tieni, prendi il rapporto del Cavaliere prima di andare. Reverenda madre. Ci segnalano degli avvistamenti demoniaci. Una donna con le corna vicino alla miniera di Jelesna. Eseguita ispezione di routine. Ancora nulla. Inviato il prete con una scorta di cavalieri. Farò rapporto quando troveremo qualcosa. Non posso farlo qui. Era solo un messaggero destinato a tramandare il verbo. Solo Inarius aveva la saggezza per interpretare il vero senso della profezia. Le sue abilità sono senza pari, ma, come vedi, non è affidabile. Non per sua indifferenza, è partito in cerca di un uomo pallido che accompagnava Lilith. Quindi qualcuno la aiuta. Con quanta facilità gli animi umani cedono all'oscurità. E la discende da un primo maligno. Bada alle mie parole. Neves che è stato solo l'inizio. Ucciderà ancora. Ma nostro padre, l'angelo Inarius, è destinato a sconfiggerla. Dove alberga la fede, non vè spazio per la paura. Il comandante Vigo, uno dei nostri, ci ha informato dell'avvistamento di un demone. Una ragazza avrebbe scorto una donna con le corna. Il rischio è troppo grande per sottovalutare la cosa. Trovalo. Sarà alle prese con la sua ricerca. Il rischio è troppo grande per sottovalutare la sua ricerca. Non finché sono io. Mi serve più furia. Non finché. Torvalo. Grazie a tutti. 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 Mi serve più furia. Grazie a tutti. 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 Mi serve più furia. Grazie a tutti. 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 che ci assilla parlando di una donna demone. Vigo è partito per indagare sulle sue affermazioni. Dovrebbe trovarsi alla miniera a nord. La scorsa settimana è scomparsa l'intera scorta dei cavalieri, assieme alla madre della ragazza e un'altra donna. Attenzione là fuori. Grazie a tutti.